Giovanni Gnoff, un successo che vi dà questi tre punti preziosissimi, ma soprattutto a livello morale da continuità alla vittoria di Ancona? Un successo che ovviamente abbiamo lottato e sofferto per ottenerlo contro una squadra che ci ha dato pochi spazi e che ci ha fatto anche nervosire in parte nella prima parte della partita, che poi ovviamente hanno ceduto anche in piccola parte a quelle che sono state le pressioni fatte al secondo tempo e che ci ha permesso poi con questo gol di portare a casa punti importantissimi soprattutto in questa fase di campionato dove ancora determinati equilibri ovviamente non sono raggiunti e comunque siamo felici per la vittoria e sicuramente faranno bene sia per il morale e sia soprattutto anche per aver dato comunque una vittoria ai nostri tifosi in casa che la prima l'abbiamo sbagliata e quindi era un modo come un altro per poterci scattare dalla battuta d'arresto col Fossombrone. Ci sono stati anche questi debutti importanti soprattutto per lei, ha avuto indicazioni sia su Balic che su Don Sa. Ma a proposito, Balic ci poi è dovuto uscire, che cosa è accaduto? Speriamo non si sia fatto nulla di grave perché la nota stonata è che lui ha sentito un po' tirare dietro però poi gli esami strumentali decideranno e varificheranno quello che è l'entità, se c'è un danno, del danno appunto. Ha visto la classifica adesso insomma è migliorata, è un campionato molto equilibrato. Ma quello che riguarda il nostro percorso non è adesso che dobbiamo guardare la classifica però sicuramente far morale e fare punti in una situazione ancora non ottimale ti dà qualcosa di importante perché questa è una fase ancora di sviluppo e di conseguenza con tutte le dinamiche che abbiamo vissuto fin qui è sicuro una cosa importante aver fatto questi punti. L'ultima, diceva prima, Castelfidardo squadra che vi ha concesso pochissimi spazi però forse anche il Chieti deve cercare di trovarli meglio questi spazi. Noi sicuramente dobbiamo migliorare soprattutto su quello che è la velocità di esecuzione su quello che è la velocità di manovra che il primo tempo è stata lenta è attratti anche un po' nervoso e non capisco il motivo di questo nervosismo noi dobbiamo lavorare per quello che è la prestazione nella sua totalità e dopodiché attraverso la prestazione ottenere risultati se gli altri non ti danno spazio bisogna avere pazienza e cercarli di ricavarseli con determinati movimenti che durante la settimana facciamo.